Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing per il ciclismo Oggi andremo ad aprire questo supporto per i manubri aerodinamici che serve appunto per metterci sopra i contachilometri della Brighton Andiamo subito ad aprire la confezione Ok, vedete si è girata bene la confezione Il prodotto è in metallo ragazzi Non dovrebbe essere carbonio, quindi acciaio, normale acciaio Ci forniscono già due viti per il manubrio Andiamo ad aprirlo Allora, vediamo qua Ci siamo quasi ragazzi Per aprirlo, apriamolo da qua e poi lo tiriamo fuori Ecco che siamo riusciti ad aprirlo E' ben sigillato questo supporto In tutte le sue parti proprio Ok, voilà ragazzi E' stato abbastanza complicato tirarlo fuori da questa confezione Essendo sotto pressione in pratica Ed eccolo qua E' il nostro supporto Andiamo a vedere da vicino I dettagli Vedete Brighton Il logo che abbiamo Qui abbiamo l'attacco Apposta per il ciclo computer della Brighton Vedete dietro Poi abbiamo anche dei buchi Qui se vogliamo attaccargli Casomai il supporto Per luci Oppure altri accessori Oppure GoPro E altri tipi di action cam Bene ragazzi Ora andiamo a vedere quanto pesa il nostro supporto Ricordiamo un supporto in metallo Quindi non è carbonio Vediamo un po' Mettiamolo sulla nostra bilancia Eccolo qui l'abbiamo messo E pesa 45 Ah no Anzi 40 40 grammi Ragazzi Questo supporto Non male comunque per un supporto in semplice acciaio Però devo dirvi anche che è davvero resistente Sempre anche visto lo spessore di questo supporto Ok ragazzi Ora procediamo con il montaggio sulla nostra bici Musica 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 Ed ecco ragazzi abbiamo montato questo supporto, l'unica cosa le viti che c'erano alla confezione Non andavano bene per il mio manubrio quindi ho dovuto comprarne alcune apposite a parte Però niente di che sono la tua ferramenta a 30 centesimi e le ho prese ragazzi Sembra stabile vedete il supporto, vedete molto stabile Colleghiamoci subito il contabilometri Eccolo qui L'attacco è il suo Vedete si mette qua così tac e si fissa Eccolo qua ragazzi come si presenta con il contabilometri attaccato Stacchiamo, vedete per staccarlo basta fare il semplice movimento E si stacca Come vedete qui l'ho avvitato con le viti C'era anche la tensione di 2,5 mm Fatto con gli attrezzi che avevo della Canyon Eccolo qua In tutta la sua completezza Eccolo qui vedete come si presenta Molto stabile e anche resistente Quindi non dovrebbero esserci problemi Bene ragazzi per oggi abbiamo finito con questo unboxing La Brayton Vi consiglio comunque di acquistare il supporto originale Perché comunque vedendo le recensioni Di altri supporti che erano adatti anche al Brayton Vedevo che comunque parecchia gente dicevano che erano di bassa qualità E si spezzavano mentre andavano in bici Invece questo qui Essendo originato al Brayton Non dovrebbe crearci problemi Anche vedete qua la resistenza che ha Vi metto come sempre il link in descrizione Per andarlo ad acquistare Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video E ciao a tutti